Bologna La Virtus è paragonabile a un'auto, forse più che a un'auto, a un autobus, viste le dimensioni che ha ormai assunto questa società e le tante attività che deve fare, sia a livello nazionale che internazionale. E quindi il senso di responsabilità che mi porta ogni giorno a pensare di avere la livrea giusta per essere il giusto conduttore di questo autobus o di questo transatlantico che deve però viaggiare spesso come un piccolo motoscafo, come velocità, perché come dicevo pochi giorni fa anche al nostro presidente, al dottor Zanetti, questa è una macchina che è un pullman che viaggia tutti i giorni a 300 all'ora.